grande novità per il 2020 e la nuova k k force è la nostra valigia d'alluminio più robusta e dedicata al mondo adventure fuoristrada come vedete qui abbiamo anche un sistema nuovo di aggancio che vi farò vedere più tardi in ogni caso è molto più spesso il lo spessore dei tubi è maggiore e abbiamo anche un sistema che visualizza aiuta a visualizzare se la valigia è stata agganciata all'attacco nel modo corretto per cui evita sganci accidentali o qualsiasi problema un aggancio quattro punti che vi faccio vedere nel dettaglio dopo quindi questa è la k k force ok parlavamo di un nuovo sistema d'aggancio questo è il mono key cam specifico per le borse laterali valigie laterali la differenza rispetto ai sistemi precedenti innanzitutto un tubo di maggiore diametro quindi maggior spessore maggiore resistenza e anche importantissimo il sistema è adesso a quattro punti due in basso e due in alto vi faccio vedere come funziona una volta allineati i supporti in basso avremo i due in alto che vanno agganciarsi a quella barra di alluminio quindi due supporti c'è un indicatore visuale in questo momento mostra rosso una volta che avrò agganciato mostrerà verde ed è il vostro indicatore che tutto funziona in modo corretto e potete partire in tranquillità